Credo che chiunque scenda in campo in questa squadra possa fare bene perché siamo alla fine tutti titolari, c'è un livello molto alto nella rosa, quindi chiunque scenda può fare bene. Avete sofferto nei minuti iniziali un po' la pressione dell'Ascoli che bloccava le fonti di gioco, quindi anche su di te c'era una pressione e non appena arrivava la palla sui vostri piedi loro venivano ad aggredire i B. Sì, lo sapevamo, l'Ascoli è una squadra molto organizzata, faccio i complimenti perché è davvero un'ottima squadra, non me l'aspettavo così, i primi minuti forse eravamo un po' le scorie da preta di Brescia e quindi eravamo un po' più contratti, però alla fine alla lunga siamo usciti. Cosa succede secondo te dalle trasferte al giocare in casa? Che cosa vi succede? Guarda, è una domanda che stiamo cercando di... cerchiamo risposta anche noi a questa domanda e non lo so, non è facile, a Vercelli meritiamo di vincere e abbiamo pareggiato, forse vincendo là ci avrebbe dato una svolta importante, purtroppo non è stato così e ora andiamo a Salerno e proviamo a vincere sabato.